Presentata la quinta edizione della Marathon degli Aragonesi organizzata dall'Associazione Sportiva di Lettantistica Ciclistica Castrovillari. Le prospettive nostre sono quelle di incentivare questo sport, di far conoscere il nostro territorio, di valorizzare, di portare gente come turista, non come ospite. Il Pollino, chi non lo sa, non ci crede, ma chi ci è venuto ci ritorna. Un percorso escursionistico lungo 26 chilometri con 870 metri di dislivello che si snoda tra Frascinetola e Petrosa per arrivare all'imperticata a 6 chilometri con i suoi picchi al 35% e più temuti dai bikers. Diciamo che il percorso Marathon è il percorso di punta, quello che deve essere conquistato. Infatti il nostro slogan, il nostro spot è conquista l'imperticata. La salita che è praticamente diventata il simbolo nel centro-sud delle salite caratterizza la nostra gara e tutti gli atleti vogliamo che la conquistino e soprattutto il post-imperticata possa emozionarli. Sarà l'anno delle novità e dei record, il cambio di location di partenze arriva a Frascinetto. Io sono orgoglioso e lieto che quest'anno è toccato al mio comune, ci stiamo attrezzando insieme agli organizzatori in maniera egregia per affrontare tutte le questioni relative alla sicurezza e alla fruibilità della gara stessa, ma anche all'ospitalità per far conoscere un po' a tutti i visitatori quelle che sono le nostre peculiarità a partire dalla nostra diversità linguistica. E' il record delle iscrizioni che punta a superare il muro delle 500 presenze. Speriamo che in questa ultima settimana possiamo aumentare almeno di altre 100 unità. Provengono diciamo da tutto il centro-sud, al momento l'iscritto più lontano proviene da Bologna. La manifestazione sportiva inserita nel circuito del Trofeo dei Parchi Naturali ha avuto il patrocino e il sostegno economico del Parco Nazionale del Pollino. Questa è diventata una delle manifestazioni che il parco coorganizza, nel senso che la caratterizza come uno dei grandi eventi nel parco e quindi anche il nostro sostegno ha un rilievo sostanziale. Poi naturalmente questa è una manifestazione che tre o quattro anni fa noi l'abbiamo un po' testata. Abbiamo capito che poteva rappresentare per il nostro territorio un grande momento di ritorno, non solo per la straordinaria conoscenza di questi luoghi. E poi devo dire che la macchina organizzativa ha dimostrato nei fatti di aver saputo rispondere ad una grande capacità organizzativa. La Marathon degli Aragonesi rappresenta una buona opera, ha commentato Alessandro Tocci, sindaco di Civita. Che dà l'opportunità di far vedere le nostre bellezze ambientali. Io non ho modo di ringraziare il comitato della Marathon, i giovani amici di Castrovillere che in questi anni hanno consentito di far vedere anche le nostre bellezze ambientali. Ormai il territorio Civita, Castrovillere e Frascineto che ormai crede e investe in questa gara. Puntare sul territorio che ha imparato a parlare in maniera collettiva e non individuale e che ha superato i campanili e vive di sinergie profonde anche in altri settori è la sfida rilanciata da Domenico Lopolito, sindaco di Castrovillari. La partenza è fissata per il 3 giugno. Si parte da Frascineto.